Ha cresciuto generazioni abbracciandole con sorrisi, affetto e sguardi che spesso hanno scaldato il cuore, anche nei giorni emotivamente più freddi. E lui, a Lecce lo conoscono come il signor Ronzo della Cotognata, lo storico bar che ha fatto la storia imprenditoriale del capoluogo salentino. Mia madre all'epoca mi ha detto ho studi in collegio, stavo in collegio, ho lavori, l'ho scelto a lavorare. Sono entrato qua a dieci anni e ho lavorato fino a me ho 80 anni, ecco questa è la storia. Voi volete sapere di più? Eh sì, qual è l'emozione più grande che ricorda in questi anni di lavoro? L'emozione più grande è i figli che sono cresciuti, che mi hanno seguito a me. Davide ha fatto quello che ha fatto, i 300 mila, e noi con le due ragazze, mia moglie, abbiamo fatto questo, la Cotognata. Per l'altro con sua moglie un amore forte, travolgente. Da 54 anni che mi sopporta, quindi è stato un amore vero. Pioniere negli affari e uomo di cuore, domani festeggerà i suoi 80 anni, ma già da oggi si respira il clima di festa. Barbara, tuo papà la casa un po' di tutti noi, ha cresciuto generazione, non ultime noi, ecco un traguardo importante agli 80 anni, grande uomo, grande padre, grande maito, ma grandissimo imprenditore per il Salento. Sì, ha una grande forza e come vedi oggi 80 anni non gli dimostra ancora, perché crede sempre all'oggi, che cosa facciamo oggi, quindi ti dà sempre uno stimolo costante. Qual è l'insegnamento più grande che ricordi di tuo padre? Il cuore grande. Mio padre ha un grande amore per noi figli, per la mamma Luciana, ma soprattutto per il prossimo. Ha sempre aiutato il debole, ma anche chiunque avesse bisogno della sua mano. Quale sarà il prossimo obiettivo? A 100 anni. Voce più da le mie. Hausso. A 11 anni. Comune a tutti i primi una皆さん –